Il multiorgasmo maschile è possibile quando l'uomo apprende a separare l'orgasmo dall'eiaculazione. E il multiorgasmo non è solo il numero di orgasmi che l'uomo può raggiungere, ma anche il livello in cui si manifesta questo orgasmo. Può essere sul piano fisico, oppure a livello emozionale, oppure sul livello spirituale. Accade quando l'energia sessuale non si concentra più solo nella parte genitale, ma si diffonde in tutto il corpo. Quindi il multiorgasmo, esattamente, cosa significa? L'esempio più facile e immediato è immagina di avere un orgasmo eiaculatorio, però senza eiaculare, e tutto questo piacere ed energia si muove anche all'interno del corpo, cambia il ritmo respiratorio, aumenta il battito cardiaco, onde di piacere si muovono lungo la colonna vertebrale, fino alla testa, e questo si può ripetere più volte in un amplesso sessuale. Poi l'orgasmo può essere meno fisico e sentire così un'apertura di cuore, sentire diffuso con la partner, con sensazioni di estasi mai provate prima. Ad oggi eiaculiamo perché il pene rappresenta la strada di minor resistenza. Con le tecniche questa energia può entrare nell'organismo e farci accedere a un'esperienza orgasmica e di unione senza precedenti. Quindi il multiorgasmo cosa significa? Più orgasmi durante lo stesso amplesso sessuale e anche il livello in cui si manifesta questo orgasmo. E durante l'amplesso amoroso possiamo provare più orgasmi fisici o più orgasmi emozionali o più mentali e o spirituali. Se vuoi sapere di più su questo tema e rimanere aggiornato, iscriviti al mio canale e attiva le notifiche per sapere quando carico un nuovo video. E per ricevere una video lezione gratuita di 45 minuti per accedere al tuo pieno potenziale nella camera da letto seguimi e iscrivimi sulla pagina Instagram sol-livia.